Il grande evento dell'estate di Carpegna e la festa dedicata al prosciutto di Carpegna DOP. Bravissima. Allora, il calendario delle manifestazioni estive è sicuramente molto nutrito e c'è veramente un palincesto interessantissimo. Però è chiaro che la fada padrone è la festa del prosciutto che ci sarà al prossimo weekend. Il taglio del nastro della festa sarà giovedì sera alle 20 con tesori a palazzo che è una cena gourmet in un'atmosfera molto particolare con alle spalle Palazzo dei Principi ed è appunto nel giardino di Palazzo dei Principi. Quindi la location è sicuramente molto suggestiva ed è sicuramente attrattiva per chi verrà a questa cena che comunque sarà anche una cena gourmet come dicevo e quindi dai sapori veramente buoni. E anche lì la fada padrone il prosciutto di Carpegna. È a cura della Proloco, la festa del prosciutto, che ci sta dedicando tanto tempo. Ci sono tanti eventi in calendario, dalle orchestre all'animazione, alla moto prosciuttata, insomma ci sono tante cose. Forse il momento più bello sarà quello del paninone. Verranno stesi qua a 70-80 metri di tavoli dove sarà steso un paninone farcito col prosciutto di Carpegna e chi vuole appunto potrà assaggiarlo con il paninone. E vogliamo entrare nel Guinness dei Primati? Allora, ci avevamo pensato e volevamo fare la piadina più grande del mondo. Poi c'è stato qualche inciampo sull'organizzazione perché nel senso che comunque richiede un'attrezzatura molto particolare che ancora quest'anno non siamo riusciti a organizzare, però sicuramente nell'obiettivo.